bravo, terza rete della Virtus Castelfrentano ad opera di Luca Rulli, Luca Rulli, porta al tre, le reti già nel primo tempo, Virtus Castelfrentano tre, Spallanciano zero, oggi c'è il turn over per la nostra squadra, vedete che si fanno a campo tanto bene anche le seconde linee, vai Henry, è il nostro schiaccio, è il nostro schiaccio, è il nostro schiaccio.